Salco è il nostro vigneto più maturo, dove abbiamo fatto scuola sul San Giovese Prugnolo Gentile e sul fare vino in generale. Dalle sue gemme abbiamo riprodotto i nostri vigneti e dal 99 lo vinifichiamo e li imbottigliamo in purezza. In qualche maniera rappresenta quello stile più classico e locale del San Giovese, verticale, sapido, leggermente amaro sul finale, con tanta frutta rossa piccola e dei sentori minerali. Due anni di invecchiamento in legno, prevalentemente piccolo, e fino a quattro anni in vetro nella nostra cantina bilanceranno bene la sua struttura tannica.